I telegiornali sono rotto calchi, ci dicono che quella e quell'altra, i calendari hanno fatto che quella starà sposato, quell'attore che altri due hanno fatto divorzio. Buonasera, la riforma della scuola ha suscitato parecchio interesse, in particolare tra gli addetti ai lavori, infatti abbiamo ricevuto diverse mail ed è per questo che stasera approfondiremo l'argomento riguardante il finanziamento alle scuole paritarie e lo facciamo con due ospiti, la dottoressa Giovanna Roggi, professoressa e vicepreside della scuola sacramentine, nonché presidente della SISCA, che è il sindacato nazionale dipendente di scuola cattolica, e il professore ingegner Luca Radici, nonché preside dell'istituto paritario Leonardo da Vinci. Buonasera. Allora Stefano, un passo indietro, sembra che il governo l'abbia fatto e mi riferisco appunto all'aiuto alle famiglie che vogliono iscrivere i propri figli alle scuole private, scuole paritarie. Questo è stato fatto in realtà in minima parte, forse anche per via delle imminenti elezioni? Ecco, allora, rispetto alla volta scorsa purtroppo devo constatare questo, che effettivamente era partito col piede giusto, ma questo evidentemente non c'è i coglioni, perché probabilmente, come giustamente dici tu, le imminenti elezioni lo hanno, e soprattutto i movimenti di piazza, sto scassamento di minchia da parte dei sindacati, probabilmente lo hanno impaurito, nel senso che era nella direzione giusta, secondo il mio punto di vista, stava dando la spallata anche giusta nei confronti proprio della ideologia che si aveva per i finanziamenti alle scuole private, che sono una palla gigantesca. Vorrei soltanto ricordare, è confortato anche dei nostri ospiti, che uno studente oggi al Stato italiano costa 7200 euro. Sono una bellezza di, per quanto concerne le scuole superiori, sono una bellezza di qualcosa come 18 miliardi erotti che lo Stato spende per il mantenimento di uno studente. Questi studenti, chiaramente, che vanno invece alle scuole private, sono all'incirca sempre, parlo nelle superiori, sono all'incirca 140 mila. Fatto 140 mila per 7200 sono un biliardo di euro che lo Stato risparmia. Ora, sembrava che Renzi fosse indirizzato nei confronti del sgravio fiscale, questo sgravio fiscale che purtroppo si è ridimensionato in... 4% che sono poi 80 euro. 76 euro, 19%. A voi risulta, come ha detto Costanzo e addirittura leggo testualmente alla Corriere della Sera, Luigi Gallo del Movimento 5 Stelle, che la colpa è stata di D'Alema, perché ha fatto con il governo D'Alema, avrebbe detto, è il centro-sinistra che ha introdotto fondi alle private, altro che centro-destra. A voi risulta che vengano dati soldi a pioggia alle scuole private? Chi vuole iniziare? Prego. Allora, a me questo non risulta. E non risulta adesso, né risultava neanche sotto il governo D'Alema. Alle scuole paritarie, e prima non paritarie, è stato dato sempre molto poco, pochissimo. Non è il governo di destra né di sinistra che abbia facilitato. Io devo dire con estrema chiarezza che addirittura i fondi che sono stati dati negli ultimi anni sono diminuiti. Non solo. Ma quando i fondi arrivano, non arrivano mai al momento giusto. Ci sono stati degli anni in cui nelle scuole primarie e paritarie i fondi di un anno sono arrivati due o tre anni dopo. Ecco, te pareva. Ecco. A lei, professore, questo risulta? Soprattutto sulle superiori. Noi evidentemente non abbiamo esperienza di scuole dell'infanzia o primarie come hanno loro. Però sulle superiori sono proprio quattro soldi. Io ho fatto un calco, mi correga se sbaglio, anche a lei. All'incirca sono 7-8 euro ad all'uno. Dipende dagli anni perché c'è poi un meccanismo dei tratti dopo i soldi. Al massimo sono 10 euro ad all'uno. Siamo intorno dai 7 ai 10 euro ad all'uno. A pioggia proprio. Per cui vado avanti, professore, diceva? Allora, dicevo che a noi arriva un total indirizzo. Quindi ci sono gli anni in cui ne arrivano 700 euro e gli anni in cui arrivano 1300 euro. In totale l'anno scorso avevano circa 700 alunni e il contributo è stato intorno ai 7.000 euro. Quindi intorno ai 10 euro ad all'uno. A testa. Per cui cazzate, cazzate nel vero senso della parola. Ora, siete d'accordo col fatto che sembrava che lui stesse andando il ragazzotto qua nella direzione giusta? Però purtroppo evidentemente i movimenti, le sommosse, gli scioperi, lo hanno probabilmente, gli hanno raffreddato i bollenti spiriti. Perché sembrava andasse proprio nella direzione del crollo ideologico. Che ne pensa? Io penso che questo sia estremamente grave. Diciamo che è un primo passo in avanti perché prima che la legge entrasse alla Camera, addirittura i 400 euro erano solo per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. In uscita dalla Camera è stato esteso anche alla scuola secondaria. Perciò alle superiori parliamo come si parla la signora Maria. Bisogna vedere adesso nel passaggio al Senato se questo verrà mantenuto. Quello che lascia molto perplessi è che io, cittadino italiano, se vado al supermercato a comprarmi una lavatrice classe A o vado a comprare la macchina ecologica o decido di ristrutturare la casa, di aprire una finestra o una serie di detrazioni fiscali che possono arrivare anche al 55%. Nel caso dell'investire sull'istruzione ai propri figli invece il tutto è limitato a 400 euro di detrazione e se passerà perché fino ad oggi non c'è nulla, che si traducono in 76 euro perché l'aliquota è il 19%. Per cui voi nella vostra esperienza non avete... È molto poco. Innanzitutto devo fare però un discorso su due binari. Se io parlo come rappresentante di un sindacato, devo dire è il primo passo. Meglio che ci sia un passo che zero. Questo ci siamo d'accordo, perfetto, però. Se invece devo portarmi dall'altra parte come mamma di una figlia che ha sempre frequentato le scuole paritarie devo dire che sono un po' delusa perché effettivamente anche se io dovessi avere 400 euro che alla fine diventeranno 80 obiettivamente non mi cambierebbe niente perché se io decido di mandare mia figlia in una scuola paritaria per motivi vari che non sto qui neanche ad elencare, 80 euro in più o 80 euro in meno non mi cambiano la vita. Non lo fanno diventare né ricca né bovara. Non mi fanno cambiare la vita. E ricordiamo come dicevo prima, siete d'accordo che la figlia della signora, i figli di tutti coloro i quali decidono di andare alle scuole private fanno risparmiare oggi allo Stato un miliardo di euro. Ogni alunno fa risparmiare 7 mila erotti euro. Io poi voglio interromperla per una parola importante, noi non siamo privati, noi siamo statali per modo di dire pubblici la vera dicitura è scuola pubblica, pubblica, il che vuol dire che è una scuola come lo Stato. Non solo, ma come dicevo anche nelle puntate precedenti, l'imprenditore per cui la proprietà non il presido, il vicepresidente come rappresentate voi in questo caso ovviamente si accolla il costo della costruzione, del mantenimento dell'immobile, le utenze, cosa che invece chiaramente in questo caso, per cui il risparmio non è di un miliardo di euro, è molto di più. Perché immagino, non lo so, perché non ho figli, per cui ne ha le pubbliche e le private, però immagino che se nella scuola pubblica ci sono centinaia di migliaia di edifici che sono faticenti, in quella privata arriveranno i vigili del fuoco ogni tre anni per controllare se è tutto in ordine. Chiaramente ci saranno un sacco di ispezioni, mentre invece ti crolla il soffitto e tutto va bene nella scuola pubblica. E chiaramente i privati devono investire soldi, per cui questo qui è ovvio che va benissimo per la garanzia degli alunni, però chiaramente lo Stato non spende. Per cui anche qualora, questo che io, la cosa incredibile è che io purtroppo faccio il giornalista, però sembra che io stia difendendo una cosa più, però è un dato di fatto, io non posso non essere obiettivo. Per cui una cosa è dare i soldi alle scuole private, ma anche se venissero dati, cosa che non succede, comunque lo Stato risparmierebbe comunque. Tra l'altro, come dicevo inizialmente, mi sembra di aver colto, voi mi correggete, gli unici soldi che vengono dati oggi sono quelli che le varie regioni danno alle famiglie come dote scuola. Pare che quest'anno non ho sbaglio. Ieri c'era una comunicazione che il Consiglio di Stato ha bocciato la dote scuola alla regione Lombardia. Ma intervenendo sulla regione Lombardia allora? Adesso io non ho ancora i dettagli, però la regione Lombardia su questo tema è stata una regione all'avanguardia, è stata molto criticata negli anni per questo. Perché devo dire che soprattutto il meccanismo del buono scuola dato per gli FP è un meccanismo che va ad avvicinarsi ad alcuni meccanismi che ci sono nei paesi del nord Europa, Svezia in primis, Regno Unito, altri paesi che adottano questo meccanismo, dove il figlio viene portato dalla famiglia dove la famiglia lo vuole portare. Nella scuola Y. Nella scuola Y. Scusi, non ci fotte sapere se è pubblica o privata. Assolutamente, assolutamente. E questo contributo che lo Stato mette a disposizione per ogni alunno viene dato alla scuola dove l'alunno si iscrive. E questo senza distinzione tra pubblico e privato. Per cui vengono dati 7200 euro. Se fossero 7200 sono 7200. Se si stabilisce che il costo addirittura in Svezia il comune di residenza dell'alunno eroga alla scuola dove l'alunno si iscrive quel contributo. Che è un contributo calcolato sul costo. Bellissimo, per cui ognuno si sceglie la scuola che vuole. Assolutamente. A seconda delle caratteristiche e della preparazione che gli insegnanti hanno, si presume. Io credo che manderei mio figlio nella scuola. Certo, ma ci mancherebbe. Tra l'altro nel 91, se non sbaglio proprio in Svezia, furono costruite da degli imprenditori, per cui da dei privati, la bellezza dei 100 scuole, 98 per l'esattezza. E questi imprenditori non soltanto li edificarono, ma poi chiaramente li hanno gestite. 100 scuole che evidentemente hanno rivoluzionato il mercato. Perché 100 scuole nuove, oggi gli svedesi hanno come minimo 100 scuole che hanno al massimo 20 anni. Adesso, a distanza di 25 anni dall'applicazione di quella legge rivoluzionaria svedese, le scuole private in Svezia sono diventate 1100. Certo. Ciò significa che il gioco vale la candela per gli imprenditori, ma soprattutto per i ragazzi. E lo Stato non ci smena niente, nel modo più assoluto. Quello che costava là, costa qui, anziché darli lì, li do qui. Questa è la vera rivoluzione copernichiana che uno si stava aspettando, che però purtroppo non è arrivata. Introduciamo eventualmente il problema dei presidi. Perché un preside, io non capisco, perché voi siete vicepreside, per cui voi già siete abituati da anni, presumo, ad assumere e a licenziare. Sirena, ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci. Naturalmente non siamo riusciti ad affrontare tutti gli argomenti, per cui invitiamo i nostri ospiti alla prossima puntata. Arrivederci. Grazie, buona sera. Arrivederci. Grazie. Grazie.